Ci sono due truffe che circolano in questo periodo, una è quella di DHL, qui c'è la versione in inglese perché ho trovato solo quella, e in sostanza ti mandano un link dove ti dicono sta arrivando il pacco, siccome in questo periodo siamo in tanti a ricevere pacchi, si clicca e si finisce là, e si finisce in un posto che in realtà non è il sito DHL, ma là ti rubano i dati. La seconda di cui voglio parlare è molto frequente, è quella che utilizza la PostPay, il link dice verifica la tua identità altrimenti il tuo account verrà sorpreso. Per verificare postessicure.poste.it.p0staypayonline.is-certified ed è qui che dobbiamo riflettere, perché è una cosa che secondo me, ne voglio parlare anche attraverso altri mezzi, è importante da conoscere perché vedete, questo è un dominio, si chiama dominio, cioè ha una serie di nomini divisi dal punto, allora partite da destra perché a volte non si sa questa cosa, si parte da destra, punto.it, dovete sempre partire da destra, qual è l'ultima roba che vediamo, è un punto.it.com, va bene, e fin lì ci siamo, ora torniamo indietro di uno, quello che c'è dopo, cioè di qua, tornando indietro da destra verso sinistra, è il proprietario, come dire, è il nome originale, è quello che deve essere vero, ok, per semplificare, si chiama dominio di secondo livello, ma freghiamocene un secondo dei nomi tecnici, è quello che dovete conoscere, perché se al posto di poste, andiamo a vedere quello di prima, c'è scritto, facciamo una prova insieme, com è il finale, perfetto, e poi prima cosa c'è? C'è is certified, urca, ma allora non è poste, ok? Perché? Perché dovete sapere che qua possiamo appiccicarci tutto quello che vogliamo, io posso fare, comprare un dominio io, poi metto punto.it, it.io, ma non è più quello originale, post.it, sembra che ci sia, ma in realtà, come vedete, in fondo c'è io, ok? Sempre occhi aperti da questo punto di vista, perché appunto si possono fare dominio di questo tipo e vedete qui il caso ed è una grande fregatura.